17 chef tra ragazzi e ragazze dell'ultimo anno del Petronio si sono affrontati a colpi di pietanze. Cucina in fermento nella mattinata, nella spasmodica ricerca di un piatto dal gusto particolare, che potesse colpire gli occhi, ma soprattutto le papille gustative, dell'attenta giuria. Formata dallo chef Paolo Barrale, da Ciro Laringe, chef dell'omonimo gruppo, dalla nota giornalista gastronomica Laura Gampagorta, dalla docente universitaria Angela Giustino e dalla professoressa dell'Ipsar Elisabetta Cioffi. Le pietanze preparate meticolosamente e presentate a mo' d'opera d'arte sono sfilate sotto gli occhi del pubblico per posarsi sotto l'attenzione dei sensi dei giurati, che a fatica, tra tanti piatti elaborati e fantasiosi, hanno dovuto scegliere tre vincitori. Grande soddisfazione per Agostino Alboretto, terzo classificato, ma che si è aggiudicato il premio messo in palio dal gruppo Laringe, tre mesi di stage ed una borsa di studio da 1.500 euro. Ho partecipato a questa gara, è emozionantissima, non vi sto nemmeno a dire l'emozione che ho in questo momento, non solo perché ho fatto il terzo posto, ma perché è stata un'esperienza fantastica stare vicino a degli chef di particolare importanza. Per quanto riguarda la ricetta che ho fatto, è stata una cosa pensata al momento, non avevo progettato cose, avevo detto solo, vabbè, quando entro in cucina ci penso a quello che devo fare. Seconda classificata una ragazza, Martina Rivoli, che con il suo trist di dolci ha conquistato la giuria e si è aggiudicata a uno stagio di un mese presso il ristorante Marenna dei Feudi di San Gregorio, sotto la guida dello chef Paolo Barrale. È una borsa di studio da 500 euro. Sono emozionatissima perché non mi aspettavo di vincere, perché sono molto scettica e autocritica, quindi è stata un'emozione inaspettata. E ho presentato un trist di dessert con due mousse, una a caffè, una a cioccolata e menta e un muffin alle zucchine, delle zucchine locali. Stesso premio per il vincitore della competizione, il quartese Simone Vacca, che con la sua invenzione è riuscito a battere i suoi agguerriti colleghi. Sono arrivato in cucina, sono arrivato abbastanza tranquillo, ho visto un paio di ingredienti e ho detto ora devo inventarmi qualcosa. Vedendo gli altri che hanno preparato tutti i primi, i secondi, ho detto ora cerco di differenziarmi facendo un dolce. Quindi ho provato, ho dato un valore aggiunto a un pacchero che è della nostra zona, cioè di Gragnano, le ho dato una nota dolce. Quindi praticamente ho creato un dessert con varie farce alla frutta, anche frutta che era del territorio stessa, frutti di bosco, che diciamo sono del nostro territorio. L'elemento che ha accomunato i vincitori è stato l'utilizzo di prodotti locali, dal pacchero di Gragnano alle zucchine del lago d'Averno, cosa che avrà colpito positivamente la giuria. Per questi ragazzi quest'anno niente vacanze, ma siamo pronti a scommettere che non se ne avranno a male. Quest'anno niente vacanze, si lavora? Eh, quest'anno no, ci salta la vacanza, beh, piacevole, va bene così.